bella a tutti ragazzi sono alex mi fa un infarto a me e io sono alchisius e oggi siamo su deep sleep cioè secondo te e quindi niente sappiamo che è spaventoso per le ombre, sappiamo che ci vogliano male, sappiamo che ci sarà più famiglie che lui vuole rientrare nell'incubo per una migliore esperienza di gioco e spegni le luci vai a fanculo sulla parte di spegnere le luci ho sempre voluto avere l'esperienza di un sogno reale lucido reale un sogno dove nel quale tu sei sveglio un sogno nel quale tu puoi tutti possono fare tutto tutto tu puoi fare qualsiasi ah tu e tutti potete fare tutto potete fare qualsiasi cosa ma qualcosa è andato sbagliato è andato storto io sono finito con l'avere un terribile incubo ciao mi ricordo di te sempre tu prima che mi svegliassi prima che mi svegliassi ho incontrato i mostri che volevano farmi del male non pensavo che fossero non penso fossero parte facessero parte del mio sogno sentivo come venissero da fuori dallo dallo sconfinato ragazzi che intratravolgente l'incubo non è finito come ho pensato non potrò fermarmi non potrò smettere di pensare riguardo a quello cos'è che è reale niente oh mio dio sono diventato ossessionato non lo so sono diventato ossessionato da questo non lo conosco il perchè magari voglio solo provare a me stesso che mi sbaglio così sono andato a una libreria locale per vedere se c'era qualcosa nel passato che ricordasse un sogno simile al mio ah questa è la libreria ah bene uscita di emergenza io uscirei di qua mi esesco passa le macchine perché l'hai detto in tedesco? dove? sono appena arrivato no vattene via una fredda notte ho passata la polizia è vero continua a passare proprio un giro in tondo sono scemi ragazzi quindi mi sa che questo qua si ambienterà nella libreria bello bello è una bella di qualcuno chiamato niente riguardo ai sogni bello non ho un foglio che non si un pezzo di carta ah no si apre cos'è sei proprio un usato di whatsapp come tu sei venuto qui e non sai cosa stai sognando cosa stai sognando sei salvo il bello è che uno va in una libreria e non c'è nessuno no no fanculo a tutti succede sempre così sempre succede cos'è il monte nota uno di sedici ma stai scherzando uno di quindici ah c'è un libro adesso e l'abbiamo preso ah 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 posso fare come il laboratorio di dexter veramente cosa? si 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 laboratorio segreto oh via che figata mamma mia e cosa sarebbe il laboratorio segreto ah ma è il quadro del secondo questo è vero anche le batterie oh fuck ma qua si torna in giro fuck fuck you bello ok è chiuso quindi dove andiamo? un ascensore nooo un ascensore dietro una libreria così a caso no power no power no power dove sto? ciao amico bello basta finiamo qua il video se il video è piaciuto lasci i tuoi commenti mi piace iscrivete cosa è accaduto a terra? ah no proprio niente cos'è quello? no forse no niente probabilmente mi serve una pila una torcia ma non so dove cercare niente riguardo a sogni lucidi ma che se ne fai che hai due sogni lucidi ma non passa più la polizia attenzione avrà arrestato questo è quello del primo eh ah questo è chiuso ma dice questo cosa è il familiare infatti ma il primo perchè era familiare nel primo? non c'è quello perchè c'era il cavallo poi non c'entrava un cazzo il cavallo ah così può andare anche giù nooo 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 ah c'è una chiave qua attaccata la chiave di una stanza bene 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 quindi e quindi la stanza è sicuramente si da una libreria e si passa ad un albergo e' logico ragazzi e' logico bello un letto un letto un letto un letto un letto un letto per tenere il letto tre lette a castello scusa e non c'è niente tutti i letti tutti i letti fantastico cioè io sono andato qua niente le pile che non c'erano non c'erano ce le possiamo mettere da qualche parte ma non credo L'amico è ancora lì? Sì, sì, ancora lì Beh, lo facciamo qua Magari se non rivolgo qualcuno Questa volta Ah, sono cambiati Hanno fatto ristrutturazione È chiusa Dall'altra parte, porca Va bene, caro amico mio Goodbye No Lo ricordo fin troppo bene Bene, bene Non ha più che la porta Ma chi si sa Ma questa è un beccatullo E ora posso tornare su Oh, non puoi Oh, per te Questo è chiuso Ah, la chiave Non posso raggiungerla Perché? È buio qua sotto Ma non c'era Ma è buio qua sotto Eh, ho capito È bloccato Come nel vecchio E quindi Qua c'è un'altra porta È vero Ciao Bert Bert Che sarebbe Fraterra di Bart Simpson È chiusa Ciao Bert Addio Bert Qua c'è il nostro amico Qua c'è il nostro amico Prova cliccarli addosso Non è Lo sapevo E io lo sapevo Lo sapevo che tu non eri vero Lo sapevo perché non poteva Venga del cazzo 1863 Abbiamo il codice Una spada Eh, magari una spada 1863, giusto? Sì Ciao amico Ciao Io vado via Bye bye Non serve il codice? Non lo so Non me ne frega niente Una è la porta Quella l'ha bloccata Come la del primo Ah, ok Che ha cambiato il codice Magicamente 1863 1863 3 Ragazzi abbiamo già avuto troppo infatti Che bello Che bello Che bello Ok, è già aperto Ragazzi lo ricordo malissimo questo posto Molto male Però Si può passare E c'è È bloccata Oddio Cos'è sto? Un ombrello Un vecchio Un gatto Ah, c'è, 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 c'è Va bene, ok? Ah, ok Chi cazzo stai? Non lo so Posso vedere Non posso vedere Ah, non può vedere Se ne ha lo specchio Pezzo di cazzo Ah, ho tre note Ah Sono formato una pagina Ok, la leggeremo alla fine Un ombrello Ok, ragazzi però ho preso Questo qua E questo qua Magari possono aiutarmi a sbloccare Le macchine Le macchine Cos'è? Un telefono Ma se vorrei essere Oh ragazzi Non mi raccolto del Del cosa Del Di che ora si era infatti E Fermiamo qua il video? Sì, torno in diretto Perché voglio uscire Da questo posto Maledetto posto No, non posso chiuderlo Solo quando c'è la famiglia di Eh, guarda qua Di zizi strani No, non si può chiudere No, niente È bloccato dall'altro lato Ok ragazzi Quindi se il video è piaciuto Lasciate un commento Mettete mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi No, non lo faccio Cos'è? Che è piovuto Che tornoio dal cielo Vai Oh, cosa fa? Oh No E il punto si è saltato Cosa? Cosa?